Trasferta insidiosa per la Gesam Gas e Luce sul parquet della sorprendente Elkos Broni. Domenica alle 18 le Biancorosse sono chiamate a rifarsi della sconfitta in overtime subita al palatagliate contro la fila San Martino di Lupari. Ad attendere gatti e compagnie c'è però una Broni forte del quarto posto in classifica, ma anche ferita per il derby perso sul parquet del Geas Sesto San Giovanni. Le Lombarde sono da considerarsi ad oggi la vera rivelazione del torneo, nonostante il roster a disposizione di coach Fontana facesse prevedere un campionato di medio-alta classifica. Ad accrescere le difficoltà per le lucchesi ci sarà anche l'effetto paraverde. Per capire cosa vogliamo dire, chiedere alla capolista umana Reier Venezia che proprio nella tana della Elkos ha subito l'unica sconfitta finora del suo splendido campionato. Le Neroverdi si sono viste superare tra le Muramiche solo da Raguse e Schio. All'andata, al termine di un match equilibrato, finito solo all'overtime, evidentemente non propizi, supplementari alle mura, Broni e Belameglio 74-70 in un concitato finale che vide la squadra di coach Serventi sanzionata con 24 falli personali contro i soli 11 di Broni. Numerose le ex della sfida, soprattutto in casa Lombarda, Sprafico, Gatti, Milic, ma soprattutto Vojta hanno vestito la casacca lucchese. Ravelli è l'unica ad aver vestito invece la maglia di Broni. Lucca è attesa da un match difficile contro una squadra che sta facendo un ottimo campionato e su un campo veramente caldo. Per questo dovrà fare molta attenzione a tutti i dettagli e non ripetere gli errori che sono stati fatali nella gara in casa contro San Martino. È davvero tanta la voglia di riscattare la sconfitta di domenica scorsa, anche perché alle spalle delle prime due, Venezia e Schio, i giochi sono ancora decisamente aperti.